Non vedeva l'ora di conoscerti. Lei sa molte cose di me. Io molto poco di lei invece. Intanto non volevo allontanarmi dal libro perché mi annoiava ripetere una cosa che avevo scritto, ripetere filmando. Poi per quanto riguarda i personaggi ho aggiunto questo personaggio che è molto simile a me che è l'editor e poi c'è il regista, c'è Neval, ci sono quattro personaggi che fanno proprio messi insieme, fanno parte di me praticamente. Quindi ho giocato molto sul mio modo di vedere le cose, sul mio modo di vivere. Assolutamente sì, però qui all'inizio era piena di musica, poi le ho diminuito un po' per dare lo spazio ai rumori della città, quello mi interessava molto. C'è questo filo conduttore di questa travella che scava a Istanbul, quella è una cosa che mi piaceva molto, quindi poi alcuni scontri, alcune cose che senti lontananza, quella mi piaceva molto. C'era una statua giù che era fatta con tutti i chiodi, che si vedeva pochissimo, un personaggio seduto così che mi piaceva molto, ma sai quello è un museo molto poco conosciuto ai turchi, a quelli di Istanbul. Infatti chi ha visto il film dice, ah voglio vedere questo posto assolutamente. No, l'arte contemporanea è molto forte in Turchia, nel senso che ci sono tanti pittori, scultori che sono molto conosciuti, per esempio in America, sono molto amati, fanno delle mostre. C'è una città che ha in continuazione questa vita di mostre, di gallerie, di cose. Nel film poi ci ho messo tantissimi quadri, ovunque ci sono, mi sono accorto di questa cosa, ma lo faccio proprio di istinto. Quello piacerebbe molto al regista, dicevo io, Denise, e quindi l'ho messo in quel modo lì, o l'ho scelto così. Però sono stato abbastanza lontano, nel senso che non sono, tutti mi dicevano vuole fare in dettaglio le cose, dicevo di no, perché lasciavo così. Io penso che quando io scrivo e faccio fare le cose ai personaggi mi diverta molto a me, mi piace, mi fa sorridere, mi piace. Quindi l'ho messo anche lì, come battuta, faccio quelle che mi pare a loro. Lui si arrabbia lì, però in generale anche senza arrabbiarsi è una cosa molto divertente. No, ma io, lui a un certo punto ci riflette e dice, ma il regista quella sera lì cosa ha fatto? E ha pensato di attraversare il Bosporo, quelle che non riusciva mai a fare con Yusuf. Arrivato Yusuf, hanno chiacchierato, hanno litigato Yusuf, se n'è andato, lui rimasto da solo, era strafatto secondo me, e decide di buttarsi in acqua per attraversare. Questo è la sua cosa. Secondo me si è perso così. L'altro invece intuisce quello che dice Yusuf, di quello di entrare nelle viscere della città e riflette su tutto quello che ha vissuto lì, guardando alla casa, le cose, e decide di attraversare la città. È una liberazione in qualche modo.